Rialzarsi dopo la sconfitta di Bari, missione compiuta e tre punti conquistati, il Potenza vince di misura contro la Paganese, una partita ostica risolta nella ripresa da Murano, secondo posto mantenuto in coabitazione proprio con il Bari per una sfida che si preannuncia ancora lunga. Match ricco di intensità fin dalle prime battute, quello contro la Paganese, al quindicesimo Emerson prova a sbloccare il risultato su punizione, facile per Baiocco, al diciannovesimo buona opportunità per Ricci che riceve in aria, primo tentativo sbilenco, secondo ribattuto, vantaggio divorato per i padroni di casa che continuano a spingere al ventisettesimo con il traversone velenoso di Ferri Marini, nessun compagno riesce ad agganciare, al trentunesimo sale in cattedra Dettori su punizione quasi dal limite, Baiocco dice ancora una volta no, prima dell'intervallo al quarantesimo, Pazzi di Paganese con caro tenuto che prova la sassata, Ioime è attento, poi azione che sfuma tra le proteste per un presunto calcio di rigore non assegnato agli ospiti. Nella ripresa è subito potenza, minuto 49, Murano conquista palla dal limite, conclusione che trova l'angolo basso e rete del vantaggio, festeggia il Viviani dopo il gol, la Paganese non ci sta e al sessantunesimo fa venire i brividi ai padroni di casa con Caccette e Alberti che costruiscono e finalizzano in area potentina, ma l'assistente dell'arbitro vede un fuorigioco. I padroni di casa provano a chiuderla quindi all'ottantesimo con la conclusione da fuori di Coppola, Baiocco blocca con sicurezza, non succede più nulla, il Potenza torna a vincere subito e resta grappato al secondo posto in classifica.